Giovani consigli comunali dei ragazzi del Piemonte crescono e si sono dati appuntamento a Torino per incontrarsi, confrontarsi e condividere esperienze e progetti. Organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte, che dal 2008 ne costudisce il registro, l'Eppening ha rappresentato un'occasione per consentire ai giovanissimi amministratori di mettere in comune le attività realizzate negli ultimi due anni e permettere ai consigli di Pinerolo, Torino, Omeni e Vardo, VCO, costituitisi nel frattempo, di iscriversi nel registro. Il Consiglio comunale dei ragazzi, una bellissima iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte, che anche quest'anno ha voluto organizzare e che avvicina le nuove generazioni, i ragazzi, il nostro futuro, all'amministrazione della cosa pubblica. Iniziativa che siamo riusciti a portare avanti anche grazie e soprattutto al contributo delle amministrazioni locali. Noi siamo certi che avvicinando i ragazzi alla cosa pubblica potremmo avere dei futuri amministratori valenti. Durante il mio mandato di sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi ho avuto la possibilità sicuramente di comprendere quelli che sono i doveri, le mansioni di un Consiglio comunale, anche se era ridotto a forma di ragazzo, e appunto assumere un senso di responsabilità che è quasi unico in quanto dirigere un Consiglio comunale, avere delle responsabilità anche a livello pubblico, rappresentare all'interno di un paese i propri coetanei, è sicuramente un'esperienza alquanto formativa, sicuramente una delle cose che uno ricorda con più piacere.